Amici di Pausa Caffè, bentornati in questo nuovo video, un saluto a tutti ovviamente da Max e tuffiamoci nella nuova news, perché qui non sappiamo chi sono i principali protagonisti di questa novella, nel senso che, sì, sappiamo che c'è il fiocco rosa per la coppia nata uomini e donne, qui già spunta fuori qualche indizio. In realtà è la terza, la terza dopo le due figlie, nate nel 2017 e nel maggio del 2020. Infatti i due aspettano un terzo figlio, che poi sarebbe il quarto di lei, nato dalla precedente relazione, e sui social hanno annunciato il sesso, scatenando l'ironia del web, per la reazione del futuro papà, che avrebbe invece voluto un maschietto, sapete, quella storia della stirpe, cose antiche che ancora si ripetono. E dopo una caccia al tesoro organizzata insieme ai figli, la coppia ha svelato il bimbo che cosa sarà, cioè maschio o femmina, comunque nascerà il prossimo anno. La reazione del papà speranzoso per l'arrivo di un maschietto è stata immortalata e pubblicata in un video in cui l'ex corteggiatrice ha svelato il sesso del piccolo in arrivo. E qui spuntano fuori gli altarini, nel senso capiamo subito che stiamo parlando di Marco Fantini e Beatrice Valli, che dicono nostra figlia è femmina, quindi sarà una femmina, e dopo la caccia al tesoro di Marco ha scoppiato i palloncini insieme agli altri figli e ad Alessandro, il primo figlio di Beatrice Valli, nato dalla relazione con il calciatore Nicola Sbovi. Insomma, c'è stata questa scoperta shock che è stata immortalata dalla futura mamma e ovviamente è stata commentata ironicamente dai fan della coppia. Un'altra femmina? Aspetta, mi devo un attimino riprendere. Queste le parole di Marco Fantini, che sappiamo voleva un maschio, no? Dopo aver visto il colore rosa contenuto nel palloncino, quindi Beatrice, abbastanza divertita, lo prende in giro e gli fa, amore, ma le hai fatte anche tu, eh? Michele ho fatte da sola. E l'ex volto di uomini e donne però è un attimino incredulo e dice, cioè aspetta, tre femmine? Altri anni di Frozen in pratica, altri anni di Cenerentola, avremo sicuramente tanti vestiti da darle. E su questo non c'è dubbio, almeno insomma, alla fine risparmiano anche un po'. E dopo Bianca e Azzurra, un altro fiocco rosa per la coppia nata uomini e donne è convolata a nozze il 29 maggio 2022 a Villa Lisis a Capri, insomma bellissima zona. Felicissime per l'arrivo di una sorellina alle due bimbe, mentre Alessandro, come anche Marco, sperava nell'arrivo di un maschietto. E fa, è ufficiale ragazzi, sì, arriverà un maschietto, assolutamente sì, e vai. E poi alla fine, fortunatamente, insomma perché non è proprio scontato, però alla fine ha detto no, vabbè ma maschio o femmina non cambia assolutamente niente. Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile. Oh, adesso con questa frase ci è piaciuto. Questo cari amici è tutto per questa news, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre qui su Pausa Caffè. Mi raccomando, vi aspetto!